ecco allora siamo quasi ricostruzione tra vature e si passa ai fogli di xps per coibentare e poi e poi e poi bella giornata di pioggia e fortuna stiamo all'asciuto qua ecco un predisposto il taglio per il eccoci dopo aver proceduto a ricostruire i travetti aver pulito tutto sagnificato e messo i pannelli adesso si procede al rivestimento in questo splendido materiale che dà questo effetto spettacolare quindi per cui eccoci qua siamo anche qui abbiamo bonificato sanificato smaltato prima mano viene molto bene questo angolo sarà da rivedere perché è un po' problematico interessante l'effetto qua dentro qualche top giustamente però direi che esteticamente molto accettabile grazie a tutti